Allora, buongiorno a tutti quanti ragazzi, sono qui per salutarvi in occasione dei mille like finalmente sorpassati sulla mia pagina e tutto questo grazie a voi perché siete veramente delle persone speciali alla quale io posso solo ringraziare a vita. Siete voi che tenete attiva la mia pagina con il vostro interesse nel seguirla, vi ringrazio per il grande interesse che avete avuto al nostro servizio lo scorso weekend al Paul Torre in Francia per supportare e soprattutto rendere pubblico l'interesse, la passione e quello che vuole trasmettere Emiliano Bellucci in questo sport motociclistico perché il motociclismo non è semplicemente MotoGP, il motociclismo non è solo Rossi, il motociclismo non è solo Marquez, quindi il motociclismo è Moto2, è Moto3, è Cev, è Civ, è Tourist Trophy, è Paul Torre, è Mondiale Endurance, è di tutto di più e quello di cui ha bisogno questa gente, quindi persone con il cuore che corrono con l'anima e il sentimento e la vera passione che comunque si usano e svolgono senza problemi. Quindi io vi ringrazio ancora di cuore che ci avete seguito in quel weekend pieno di emozioni e non mi rimane che ringraziarvi ancora perché siete veramente tanti, mille, 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 cominciano ad essere oltre mille persone che seguono questa pagina fantastica, Schamberga Power, l'atleta creato così come personaggio in minimodo per trasmettere passioni al mondo intero. Vi ringrazio di molti di voi che condividete la mia pagina e piano piano stiamo prendendo pieta e andando avanti. Ci sono molte cose, novità e aspettative per il 2016, questo anche grazie a voi e per voi, quindi rimanete sempre aggiornati sulla nostra pagina perché non ve ne pentirete, non sarete mai annoiati, anzi cercheremo sempre e solo di trasmettervi positività in questa vita così difficile che ci rende schiavi del sistema ma anche tristi un po' a borde perché ognuno di noi affronta periodi neri con problemi, cose comunque sia molto più importanti del divertimento, ma non ci interessa, noi va bene così, ci divertiamo così e trasmettiamo quello che è giusto trasmettere, la passione, la voglia e il divertimento giusto nei momenti giusti perché è veramente importante quello perché senza essere, noi non vogliamo essere primi, vogliamo semplicemente essere i migliori, trasmettere al meglio il nostro segnale come già abbiamo fatto, già diciamo stiamo abbastanza amanti con le nostre forze e le nostre capacità. Non smetterò, ripeto, mai di ringraziarvi, quindi continuate a seguire la nostra pagina e non ve ne pentirete. Sempre l'hastag looking forward, guardiamo al futuro sempre, pensiamo sempre al meglio perché qualsiasi persona, ognuno di noi ha qualcosa da trasmettere o è portato per qualcosa, quindi esprimetevi, abbiate il coraggio, non preoccupatevi. Tutto quanto oggi è gratuito, il mondo intero ci può conoscere, grazie al web, grazie ai social, quindi credeteci sempre fino in fondo. Spero vi posso essere da esempio sempre, nel bene o nel male. Ciao a tutti, buona giornata, Schamberga Power.